Fasi finali per il bacino di laminazione a monte di Viale Diaz a Vicenza, opera di difesa del suolo finanziata con 18 milioni di euro dalla capacità di invaso di 1.150.000 m3. Stiamo portando a termine le ultime finiture, però il bacino è già operativo dal punto di vista idraulico, quindi qualora ci fosse una piena che interessa il bacchiglione o i suoi affluenti, l'orolo, il timonchio, e questo sarebbe in grado di trattenere temporaneamente oltre un milione di metri cubi di acqua, evitando che questa acqua possa andare a impattare come accade nel 2010 nell'abitato di Vicenza. Bacino che rappresenta una sorta di parcheggio momentaneo d'acqua in eccesso, volto cioè a regolare la portata del bacchiglione nei momenti di piena e scongiurare così dal rischio alluvioni. Il fiume aumenta di livello, quando arriva quasi al sormonto arginale, quindi quando è in piena, vengono invase queste aree, questi bacini di laminazione in maniera controllata, in modo tale che l'acqua in più, anziché andare ad uscire dove vuole lei sormontando gli argini, venga trattenuta in queste zone che vengono, fra virgolette, sacrificate, sono zone, in questo caso agricole, che possono accettare, c'è una servitù di allagamento che viene riconosciuta ai proprietari, che possono salvare appunto i centri abitati o le zone industriali che stanno a valle. Opera funzionale per difendere dal rischio idrogeologico non solo la città di Vicenza, ma anche i vari comuni a seguire, compreso il Padovano. Lo è sicuramente, come lo sono tutti gli altri bacini di laminazione che abbiamo realizzato, per esempio quello di Caldogno a Monte, sul Timonchio, a Monte rispetto a dove ci troviamo adesso, che è in grado di trattenere 3.800.000 metri cubi d'acqua, così come quello che stiamo terminando, e anche quello dal punto di vista idraulico è già operativo, sempre a Monte, ma sull'Orolo, che è in grado di trattenere un milione di metri cubi d'acqua, sono quantitativi d'acqua che evitano di andare ad impattare sulla città.